La mente e il cervello sono due dei fenomeni più misteriosi e affascinanti che L uomo abbia mai incontrato. La mente è la sede dei nostri pensieri, delle nostre emozioni e delle nostre percezioni, ma non è una cosa che si possa toccare o vedere. Il cervello, di altra parte, è L organo fisico che controlla le funzioni cognitive, ma esso stesso è un enigma ancora in gran parte irrisolto. L uomo ha cercato di comprendere la natura della mente e del cervello fin dall'alba della civiltà, ma solo nei tempi moderni la scienza e la filosofia hanno iniziato ad affrontare queste questioni in modo sistematico e rigoroso. In questo progetto esploreremo alcune delle principali teorie sulla mente e sul cervello, cercando di capire come questi due fenomeni si influenzano e interagiscono tra di loro.